Io vi saluto, sono arrivato, sono contento di essere qui e credo che sia sempre molto bello tornare ed essere dentro a un'esperienza di vita bella come questa. Allora abbiamo cantato su Ali d'Aquila che prima di diventare vescovo dicevo che rendeva valido il matrimonio perché se come salmo responsoriale non c'era su Ali d'Aquila si metteva in discussione la validità stessa del matrimonio dato che era abbastanza usato, quindi è segno che anche il convegno è valido. Ecco avete un breve schema che vi ho dato e allora inizio, sarò lungo e pizzoso. Ho preso da un amico che mi ha fatto leggere la bozza di un suo libercolo gli ho chiesto di poter usare uno degli episodi che lui descrive. Deve ancora essere pubblicato questo libro ma gliel'ho preso. E' la premessa. Don Abele era diventato prete presto e da prete ne aveva fatte tante. Capellano, studi romani, seminario e incaricato dei giovani. Un giorno approdò sulla spiaggia delle famiglie, scivolava via dal suo vescovo e incontrò, incrociò il vicario generale. Te l'ha detto il vescovo. Cosa? Che hai anche le famiglie. Non lo sapevo. Adesso lo sai, ti saluto che ho fretta. Mai farsi avanti, mai schivare le cose. Da sempre lo aveva fatto e lo fece ancora. Si buttò dentro come sempre da prete, con la voglia di fare leale e vera. Normalmente le cose funzionavano e non c'era campeggio che non finiva in una notte di baldorie, dopo tanto lavoro, e in seminario si godeva della sana gogliardia di essere giovani. Cose poco pensate, ma autentiche e vere. Gli piaceva condividere, tirare la palla avanti con generosità e con la presunta certezza di poter in qualche modo raggiungerla. Qui è diverso, lo stoppò subito un matroneo di mamme. E qui non siamo mica in seminario. Aggiunse un'altra con un pannolino in mano e il bambino, finalmente soddisfatto, tirato con l'altra, mentre lei cercava un cestino nell'indo convento di Suore dove Don Abele le aveva convocate. Scordati di fare come hai fatto finora, con amorevolezza, una mano sul grembo e qualche smorfia gentile. Abbiamo tempi ed esigenze diverse. Per camminare con noi devi stare anche di fianco e dietro. Don Abele era un volenteroso calciatore. Gli aveva iniziati in porta e vide anche lì il pallone rotolare dentro, deviato dalla barriera che lui aveva messo bene per coprire l'angolo. Si sentì proprio come un portiere battuto che raccoglie la palla scusandosi e vergognandosi per la presunzione di sapere fare tutto bene e dire che Don Abele aveva certezze ferree fin da piccolo. La pianura e i monti a sud, sempre uguali alla sera a salutarlo mentre andava a letto in seminario ed è stato in vacanza quando a casa raccoglieva le pere. La democrazia cristiana, sempre al governo, con assigliazioni su e giù, ma sempre lì. La squadra del cuore, sempre e comunque la migliore, anche se per anni al liceo aveva subito l'ingiuria dei derbi andati male. Certezze non assolute, ma chiare. Così erano anche le colonne della sua vita, Dio, la vocazione, la famiglia, l'obbedienza senza dire altro, perché la voglia di fare ci deve sempre essere, pronta e senza ma. Nel suo dialetto, non averne voglia, voleva dire essere malato, se stai bene, la voglia c'è, ci deve essere, ripeteva sicuro. Quel pallone, invece, gli era andato dentro. I monti si potevano prendere anche di traverso, anzi, c'erano posti che erano messi così. La democrazia cristiana poteva sparire e la beneamata rischiare la bassa classifica. Cioè, Dio chiedeva risposte nuove. La vocazione poteva essere di fatto diversa con la vita buttata in Dio, ma tra le braccia di uno e di un'altra e con un bambino in braccio. Questo lo sapeva da sempre, ma solo adesso lo scopriva. E fu una scheggia di luce per il povero Don Abele. Come le ossa e le giunture che si uniscono e riformano la persona umana, così gli balenò la Chiesa, il mondo, la sua famiglia e quella degli altri. Era diverso ed era bello. Siamo partiti dal fondo, dall'esperienza di un prete volenteroso che arriva sopra ad un crinale e scopre che di là c'è un mondo nuovo che lui aveva visto sulle mappe, ma che ora impara a conoscere percorrendolo, o meglio, lasciandosi accompagnare. L'episodio, come dicevo, strappato dal libercolo di un amico, però è già datato e limitato ad un aspetto del rapporto ordine-matrimonio che è la pastorale. Rischia di essere datato perché ravvise la presenza di una sana disponibilità al dialogo e al confronto e la presenza di una pastorale della coppia e della famiglia, temi da non dare per scontato, ma da prendere di nuovo in mano alla luce di novità che si sono fatte strade. Si restringe questo al campo pastorale che è un'espressione, direi, il frutto di un albero che deve avere radici solide e che deve portare anche altri frutti. Ed ecco le radici dal Vangelo di Luca 33-35 Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano se tu sei il re dei giudei salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta costui è il re dei giudei. Davanti a Gesù in croce passa la scena del mondo. Chi sta a vedere che è il popolo, chi assume l'atteggiamento più decisamente contrario ed ironico disprezzo sono i capi, i soldati. e invocano da Gesù un gesto di salvezza per sé insinuando le parole della tentazione, del dubbio, dello scherno se sei il figlio di Dio. Potremmo unire questo brano a Giovanni 19,33. Uno dei soldati gli trafisse il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Il sangue indica il sacrificio dell'agnello offerto per la salvezza del mondo. L'acqua è simbolo della fecondità spirituale data dallo Spirito Santo. Nel sangue e nell'acqua c'è già la gloria del mattino di Pasqua e Gesù che non salva se stesso ma salva noi. Acqua e sangue rappresentano quindi i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia fonte e culmine di tutti i sacramenti. Ci spiega al riguardo il Santo Padre proprio parlando a sposi e preti ad Ancona dice vorrei soffermarmi brevemente sulla necessità di ricondurre ordine sacra al matrimonio all'unica sorgente eucaristica. Entrambi questi stati di vita hanno infatti nell'amore di Cristo che dona a se stesso per la salvezza dell'umanità la medesima radice. Sono chiamati ad una missione comune quella di testimoniare e rendere presente questo amore a servizio della comunità per l'edificazione del popolo di Dio. Dal costato di Cristo come Eva da Adamo nasce la Chiesa. Popolo sacerdotale che vive il sacerdoze di Cristo con la triplice dimensione di sacerdote re e profeta. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica Cristo sommo sacerdote e unico mediatore ha dato alla sua Chiesa un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Tutta la comunità dei credenti è quindi sacerdotale. I fedeli esercitano il loro sacerdozio mattesimale attraverso la partecipazione ciascuno secondo la vocazione sua propria alla missione di Cristo sacerdote profeta e re. In forme proprie differenti questo triplice mandato che in latino si dice tria munera viene esercitato dai fedeli e assume caratteri propri nell'ordine e nel matrimonio che come recita ancora il Catechismo sono ordinati alla salvezza altrui. Essi infatti se contribuiscono alla salvezza personale questo avviene attraverso il servizio degli altri per questo essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Quindi perché nati in Cristo presbiteri e sposi si salvano cooperando alla salvezza degli altri. Vorrei entrare allora in una riflessione che comprenda il sacramento dell'ordine del matrimonio i preti e gli sposi scegliendo due spiragli il ministero dei presbiteri espresso nel mandato di reggere insegnare e santificare come veri sacerdoti del nuovo testamento e l'amore coniugale degli sposi. Innanzitutto i tre compiti del prete quelli che vengono chiamati triamunera i tre compiti la croce sul calvario definisce in modo particolare il ministero presbiterale attraverso l'esercizio dei tre principali compiti che gli sono assegnati che compongono insieme l'essere e il fare del prete dalla croce e nella croce trovano un particolare risalto il primo il compito di reggere il popolo di Dio il titolo scrucis cioè il motivo della condanna di Gesù che Pilato scrive sulla a capo della croce Gesù il re dei giudei lasciando perdere le motivazioni per cui Pilato insiste su questo e l'esegesi che se ne può trarre noi vediamo che a questo punto il titolo di re attribuito a Gesù non può destare fra intendimenti non indica il potere umano non indica quel potere che gli discepoli già ancora chiedevano nell'ultima cena indica qualche cosa di diverso indica cioè il dono che il Signore fa di se stessi di se stesso a tutta la Chiesa e a tutta l'umanità in modo similare il compito di reggere il popolo di Dio è affidato ai presbiteri il ministero di reggere cioè di esercitare l'autorità spirituale è dato ai presbiteri per la maturazione della fede di tutto il popolo di Dio cito presbitero Mordinis 6 ciascuno sia condotto dallo Spirito perché questo compito perché ciascuno sia condotto dallo Spirito Santo a sviluppare la propria vocazione specifica secondo il Vangelo a praticare una carità sincera e operativa ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha salvati e quindi un servizio di educazione alla fede che è essenziale e prioritario al punto che il Concilio aggiunge di ben poca utilità saranno le cerimonie più belle e le associazioni più fiorenti se non sono volte ad educare gli uomini alla maturità cristiana quindi un servizio a favore del popolo di Dio e a favore delle delle membra di questo popolo il testo conciliare cita subito i giovani gli sposi i genitori per i quali auspica anche un metodo quello di ritrovarsi in gruppi fraterni si parla di amicales cetus gruppi sposi gruppi giovani un servizio quindi volto alla comunione con un forte spirito missionario infatti chiude presbiterorum ordini 6 che è dall'eucarestia che si deve prendere che deve prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare interessante lo spirito di comunità il secondo servizio degli sposi è il servizio di insegnare dei presbiteri ho visto che siete attenti i servizi è quello di insegnare e il calvario ci mette davanti il kerigma l'annuncio del kerigma Cristo morte risorto annuncio che assume forme tonalità diverse perché sia accolto da ogni persona nella sua reale condizione e costituisca uno stimolo alla crescita e tutto questo secondo la pedagogia di Dio che riconosce la situazione del suo popolo e che lo porta lungo la strada del deserto per educarlo alla dignità di popolo un annuncio quello quello dei presbiteri incentrato sul kerigma sul kerigma e che deve avere una dinamica pedagogica verso le membra del popolo di Dio e deve avere una credibilità legata alla vita stessa del prete il terzo servizio è quello di santificare santificare i presbiteri i presbiterorum ordinis cinque sono chiamati ad essere soci e collaboratori di Dio nell'opera di santificazione il sangue e l'acqua versato dal costato di Cristo sono per i presbiteri stessi fonte e nutrimento che attraverso la loro vita segno di Cristo raggiungono tutti tutto questo non è semplicemente legato al fare del prete al suo compito ma è anche profondamente legato all'essere e alla sua vita è lo stesso decreto conciliare al quale ho voluto fermarmi in questo cinquantennio dell'inaugurazione del concilio che riafferma questo l'esercizio del ministero presbiterale è un tutt'uno con la persona del presbitero dice P.O. 12 perché con il sacramento dell'ordine i presbiteri si conformano a Cristo sacerdote come membri del capo allo scopo di fare crescere ed edificare tutto il suo corpo che è la Chiesa allora sono di Cristo strumenti vivi ed è attraverso questo servizio che imbroccano la strada della santità loro propria allora presbiterò un ordine 13 perché ministri della parola leggono e ascoltano questa parola prima di tutto per loro come ministri delle cose sacre e soprattutto del sacrificio della messa i presbiteri agiscono in modo speciale in nome di Cristo e proprio nella celebrazione dell'Eucaristia e nel rifarsi a Cristo nasce l'ascesi propria del prete che è un ascesi che fa riferimento a Cristo pastore si dice esplicitamente che celebrando il mistero della morte e risurrezione devono cercare di mortificare le proprie membra dai vizi e dalle concupiscenze e ancora successivamente questa ascesi dice che come Cristo in croce debbono rinunciare i propri interessi e ammirare non a ciò che fa loro comodo bensì a ciò che è utile a molti in modo che siano salvi e ancora sono come ministri che reggono il popolo sono stimolati alla carità del buon pastore cioè a dare la vita per il gregge sono educatori del popolo di Dio alla fede e proprio per questo sono animati da fiducia nel Signore al punto di consolare e al punto di intraprendere vie nuove nella pastorale sotto la guida dello Spirito Santo che soffia dove vuole Presbiterorum Ordinis 13 e qui c'è un punto delicato sul quale io vorrei mettere la vostra attenzione la vita del presbitero il cammino di santità nascono necessariamente dalla sua chiamata e dal vivere il proprio ministero in una autentica unità di vita che si modella su Cristo nell'unione a Cristo nasce la carità pastorale che scaturisce dal sacrificio eucaristico il quale risulta il centro e la radice di tutta la vita del presbitero una vita che diventerà vita di obbedienza che diventerà dono di sé nel celibato che diventerà scelta di povertà a questo punto ci viene in aiuto pastores d'abo vobis perché ci mostra e ci specifica la carità pastorale del presbitero mi permetto di entrare nel merito di questo il sacrificio della croce offerta a noi nell'eucaristia è il dono totale di Cristo alla sua chiesa il dono del suo corpo dato e del suo sangue sparso quale suprema testimonianza del suo essere capo pastore servo e sposo della chiesa è il numero 23 la sua autorità di capo del presbitero del del Cristo scusate coincide con il servizio e questo vale di Cristo e questo vale del prete la carità pastorale del prete si trova alle radici nel dono di Cristo capo della chiesa che offre se stesso per noi e qui si innesta tutta la vita del presbitero che allora è capo perché diventa servo di tutti e la carità pastorale del presbitero assume le caratteristiche di una dimensione sponsale farsi dono alla comunità essere dono per la comunità questo lo dice esplicitamente Giovanni Paolo II in questo testo parla di un essere per gli altri con lo slancio dello sposo la carità pastorale assume quindi caratteri ben precisi e partecipazione all'amore di Cristo coinvolge in prima persona il prete crea un'unità di vita all'interno dell'esperienza del presbitero tra la sua vita interiore e i compiti del ministero sollecite esige un personale rapporto del prete in relazione agli altri preti nel presbiterio notate che il riferimento è a Cristo capo della chiesa il riferimento è all'amore sponsale espresso in Efesini 5 ed è lo stesso testo che viene preso e che fonda il sacramento del matrimonio e voi capi e voi mariti scusate amate le vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stessa per lei torniamo di nuovo al sacrificio salvifico del Signore in croce che fonda il mistero grande del sacramento del matrimonio questo mistero è il centro che interpreta in modo profetico quelle parole che abbiamo sentito nella Genesi per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due formeranno una sola carne certamente quelle parole indicano una verità profonda se non si fa questo non si è sposati bisogna lasciare la propria casa per donarsi all'altro e creare una famiglia nuova ma è altrettanto vero che questo rapporto va letto in chiave cristologica e indica l'unione di Cristo con la sua chiesa che è il fondamento dell'unione tra marito e moglie allora che cosa possiamo dire possiamo dire che dal medesimo sacrificio di Cristo sulla croce la vita offerta per noi e ridonata al padre a lui nella Pasqua nasce l'amore di Cristo che diventa carità pastorale per i presbiteri e al contempo riempie la vita degli sposi nell'amore coniugale che è quell'amore così particolare proprio che si configura in un amore totale unico fedele fecondo e che lo si vive nella relazione di coppia come dice in termini espliciti familiaris consorzio al numero 13 eccoci allora che noi possiamo leggere in questa logica di nuovo gli attributi dell'amore coniugale un amore totale che esprime l'amore del Signore offerto alla Chiesa e questo amore nel matrimonio assume il carattere del mutuo dono gardium espes 48 del mio essere qui per te per la tua salvezza e la tua realizzazione e l'altro in modo reciproco dice lo stesso chi ama davvero il proprio consorte o ripresi in mano umane vite nove non lo ama soltanto per quanto riceve da lui ma per se stesso lieto di poterlo arricchire del dono di sé è un amore unico l'amore di Cristo è universale ma è anche esclusivo ognuno di noi può dire il figlio di Dio mi ha amato e ha dato la vita per me Galati 2 20 l'universalità dell'amore non contrasta la sua unicità e qui dentro chi è mamma di più figli ce lo insegna che ha voluto e vuole bene a tutti ma nello stesso tempo vuole bene con un amore unico e esclusivo ciascuno e questa peculiarità l'ha ravvisata fin dal momento in cui quel bambino è stato concepito nel suo grembo così mi dicono un amore fedele un amore fedele avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine al dono di Cristo in croce al carattere della fedeltà e potremmo leggere la storia dell'Antico Testamento anche con questo attributo del Dio fedele che raggiunge il compimento in Cristo e questa fedeltà esprime la dinamica dell'amore perché la fedeltà significa il rinnovare questo sì e non è certamente un giocare in difesa anche se oggi bisognerebbe tenerlo molto a cuore questo questo dono e anzi raddoppiare le marcature dato il contesto in cui viviamo poi è un amore fecondo un amore fecondo il Signore in croce nel momento del suo massimo fallimento e fonde sangue ed acqua e da vita ad un popolo la Chiesa che raggiunge gli estremi confini della terra ecco allora che la fecondità di Cristo è la fecondità degli sposi certamente in una vita che è resa feconda dalla loro unione è la fecondità propria del matrimonio nei figli dono dal dono fecondità che comunque permane anche quando i figli non arrivano tutto questo genera la famiglia che è come Chiesa domestica se mai qualche dono avrà la pazienza di leggere gli atti troverà tutta una disanima su questo vado alle conclusioni semplicemente perché vorrei dirvi con lumen gentium undici che in questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica i genitori debbono essere per i loro figli i primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno e quella sacra in modo speciale la famiglia dice apostolica maccositatem ha ricevuto da Dio questa missione di essere la prima vitale cellula della società e tale missione essa adempirà se mediante il mutuo affetto dei membri e l'orazione fatta di comunione si mostra come il santuario domestico della Chiesa se tutta la famiglia si inserisce nel culto della Chiesa se infine presenterà fattiva ospitalità se promoverà la giustizia e le altre buone opere a servizio di tutti tutto questo che cosa indica indica che il triplice servizio dei presbiteri a loro qualificati in modo proprio perché sono veri sacerdoti del Nuovo Testamento lo si riscontra nella logica battesimale perché questo compito è dato a tutti nel sacerdozio comune e lo si riscontra nella peculiarità data dal sacramento del matrimonio nella famiglia Chiesa domestica allora si verifica anche qui questo incrocio quasi questo chiasmo che da un lato questo dalla medesima radice che Cristo morte e risorto nasce l'amore di Dio che diventa carità pastorale nel presbitero ed ha la peculiarità di questo triplice compito diventa amore coniugale negli sposi che recepiscono all'interno della famiglia Chiesa domestica questo triplice compito lo accolgono dalla Chiesa tramite i presbiteri in modo sacramentale e lo vivono loro con quella creatività data dal loro sacramento all'interno della Chiesa con quelle forme quelle peculiarità che sono soltanto loro proprie ecco allora quasi con uno scherzo che io nella famiglia Chiesa domestica ho rimesso siamo al punto 4 per vostra soddisfazione perché tra un po' stiamo scollinando dall'altra parte ho rimesso volutamente in latino questi triamunera ad indicare che sono sì patrimonio dei presbiteri ma che al contempo sono accolti e vissuti dalla Chiesa domestica e qui c'è una prateria sulla quale lasciare le briglie del nostro poni e potere galloppare e tante volte ci siamo ritrovati su questo anche se a volte bisogna tenere le ben forti queste redini perché il riscontro a volte non è sempre dato vi direi solo per titoli poi se qualche ad uno avrà problemi di insonnia potrà leggere questo il munus santificandi la famiglia come santuario della preghiera di coppia e della famiglia la famiglia che vive la realtà dell'eucaristia attorno alla mensa in un qualche modo la accoglie e la prepara la famiglia cito questo perché siamo a nocera umbra che vive le esigenze del perdono al suo interno penso la settimana che abbiamo svolto qui la famiglia perché no che vive in modo anche qui cristico l'ascesi l'ascesi è proprie dei presbiteri come proprie della famiglia cioè quell'allenamento accompagnato dal sacrificio e dalla rinuncia a sé per fare spazio all'altro l'ascesi della famiglia allora è il ben litigare e superare il proprio orgoglio per impedire che il sole tramonti per la propria ira sulla propria ira e portare pazienza cioè unire il bene al tempo e l'essere forti entrando nel merito di un problema piuttosto che far finta di niente e voi me ne insegnate tante ancora così nel munus santificandi si fa l'esperienza della mistica cioè di quell'esperienza quasi per connaturalità di Dio che nasce nella vita familiare anche qui io parlo per sentito dire l'avvertire che quel bambino che si muove nel grembo l'esperienza dell'intimità o del perdono il sentire il vedere finalmente gli occhi di quel bambino da tanto atteso sono esperienze che non si possono narrare sono esperienze per le quali non ci si riesce a dare delle parole ma che mi fanno sentire Dio me lo fanno sentire vicino me lo fanno sentire dentro quasi come in Giovanni 21 quando si trovano a quella mensa che Gesù ha preparato e non chiedono chi sei perché sanno bene che sei il Signore la vita dei famigli a volte assurge a questo penso al munus docendi aprire la parola di Dio in casa con tutte le fatiche che succedono ma scoprire con sorpresa che questa parola di Dio illumina la vita della famiglia ma nello stesso tempo anche è illuminata dall'esperienza della famiglia chi come me ha avuto la gioia di leggere la parola di Dio con famiglie e anche con famiglie a volte in difficoltà separate con grandi dolori ha ricavato un'intelligenza della parola che da solo come prete parlo di me non ci sarebbe mai arrivato perché è il dono di Dio che viene offerto e viene offerto in un modo particolare lì poi pensiamo al munus reggendi si parlava una volta in modo riduttivo del matrimonio rimedium concupiscenzie e io quando ero insegnante di morale mi piaceva chiederlo quando non ne potevo più ai miei studenti quando venivano all'esame ecco una di quelle domande a trabocchetto qua potremmo parlarne del matrimonio come aiuto reciproco a vincere il peccato la concupiscenza che è sempre accovacciata alla porta di tutte le case le canoniche e i vescovadi per aiutarsi per aiutarsi a vivere la vita buona del Vangelo reggendo l'uno la vita dell'altro